E' stato posto infermo per omicidio il marito della donna di 45 anni trovata morta nella serata di sabato a Lentini nel Siracusano a chiamare il 118. Era stato lo stesso uomo parlando però di un possibile gesto volontario della moglie. L'operaio ha spiegato di aver ritrovato la donna a terra in una pozza di sangue al suo ritorno a casa. Quando i soccorsi sanitari sono arrivati sul posto per la donna purtroppo non c'era già più nulla da fare. Dopo ore di interrogatori i racconti dell'uomo hanno lasciato molti dubbi a poliziotti e PM che invece ipotizzano un femminicidio a seguito di una lite domestica.